Ed eccola la cattedrale la domenica, la spara Eritrea, eccola l'interno della cattedrale, il prese per l'altare, tutte scritte in italiano, architettura tipicamente italiana. La prima traversa dopo la cattedrale, via Mendefera, via Nakfa, è la zona dei mercati, chiesa agricoltodossa, l'interno della chiesa, porti di adiacenti al mercato, architettura coloniale, chiesa di Kidane, Asmara Eritrea, l'interno della chiesa, il suffitto. Il mercato delle galline e dei galli, edifici coloniali, il mercato, eccolo, le vie di Asmara, Eritrea Square, i bellissimi portici, la grande moschea.